Bella a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi finalmente cominceremo un gioco nuovo e andiamo a cominciare subito con Dead Space Tempo al punto di contatto due minuti, ok è arrivato questo segnale Mi dispiace per tutto, ah potessi parlare con qualcuno, qui va tutto a pezzi, io non ci posso credere E' strano, una cosa così E' lei? E' Nicole? Si, non sento la sua voce da settimane A 5 minuti di distanza ancora ascolti quei... deve mancarti davvero Non rifiace il carico sulla Ishimura, ma 6 mesi lontano con solo videochiamate sono duri Facile dire la cosa sbagliata Non ti biasimo, preferirei stare ad ascoltare la mia ragazza che è in modo blatterare di sicurezza Persona pisata e mezza salvata, Daniels Lo dici sempre Ecco fatto, un bel rientro politico E' ragazzi Penso a 6 mesi a fissare quella roccia Per un minatore indipendente, è il paradiso Aegis 7 è uno dei giacimenti più ricchi della CEC Qualcuno si sistemerà a vita Ma dove è? Laggiù Confermo contatto visivo con la USG Ishimura Una meraviglia La più grande nave trivella della sua classe E sono già al lavoro Perché è così buio? Dovremmo vedere le sue luci di marcia Esatto Cercherò di trovare la comunicazione Qualcuno ci starà aspettando Attenzione all'avvicinamento Non corro rischi con l'orgoglio della CEC Nessun rischio, eh? Per questo frugavi nel mio fascicolo prima della partenza Tracci gli accessi al tuo file Analista informatica È parte del lavoro Era un controllo autorizzato della CEC, Daniels Lavori con i migliori Devi stare a gioco Signore Siamo in comunicazione USG Ishimura Qui squadra di supporto emergenze della USG Kellion Davanti Ishimura Ishimura, mi ricevete? Rispondete Qui USG Kellion Hai mai sentito di blackout comunicazioni su una di quelle cose? Forza Rispondete al comunicatore Che diavolo è? Sembra che il sistema di comunicazione sia rotto Forse un codificatore guasto Io e Daniels lo sistemiamo in 48 ore Ehi, avrai tempo per stare con Nicole Sì, spero di sì Shane, Johnston, portateci dentro Regami gravitazionali attivi Attacco automatico Attivato Perdo il controllo Regami in avaria Siamo fuori rossa Daniels Il pilota automatico non si spegna Cazzo cazzo Siamo troppo veloci Ci schiatteremo contro lo scato Tira lo stabilizzatore di emergenza Da, luce blu Potrebbe rallentarci Ci sono Abbassare gli scudi Ok E vabbè Cazzo tu hai Merda Meglio di un collo rotto O peggio Bel lavoro Isaac Per fortuna leggo sempre il manuale Che problemi ha la sala di comando? Quel pilota automatico è una trampola Aggiungi alle riparazioni Shane, quali sono i nostri danni? Il sistema di comunicazione e il propulsore di bordo Oh Ok Potrebbe andare peggio Ma non molto Ah Bene Cerciamo aiuto Johnston sulla Caglion Ti mandiamo un medico Gli altri con me Esattamente no? Ci ha detto Bravo Isaac Ma che cazzo abbiamo fatto noi? Eravamo seduti su una seggiole E basta? O sbaglio? C'è manco la seggiole qua Ok Segui la La squadra di sicurezza Ok Ok Ragazzi stavo tanto cercando di capire come Come muoverci Con start si mette la pausa Noi mi date qualcosa? USG Ishimura Sicuro Beh ragazzi Atmosfera iniziale è fighissima Graficamente Graficamente bello pompato eh Ma proprio bello pompato Insomma per quello che era una volta Mi sembra che sia venuto un bel Abbiamo fatto un bel lavoretto Tanto vale registrarsi Ok Dai forza Partiamo No sto con le mani in alto Grazie Grazie Ok Ok Morto Ora non è morto tutti quanti Sicurezza Anche l'ufficiale tecnico E succede con la comunicazione E tutto Ho tutti morti Sbloccato Sbloccato Aprire dai vai Andiamo Ok E si stanno riattivando poco per volta Tutte le cose qua Welcome aboard E benvenuti a bordo Ma che belle facce sorridenti Sonsorizzato Print publishing Immagino un mondo in cui Dipende se interamente le risorse Quasi sorritte della terra Va bene parla della Ishimura Di quello che fa Stai tranquillo Volevo vedere un attimo Cosa c'era in giro Allora qua è tutto bloccato Premier Il navigatore Per vedere dove devi andare C'è odore di merda? Cominciate già a cagarvi sotto? Ma non è ancora successo niente ragazzi Allora rapporto Ok Niente Tutta una merda sto gioco Sta nave Perché l'hai dovuto chiedere? Ok Ok L'unica cosa che non doveva essere a posto è a posto Lo senti? Ma va Un po' di sano splatter Non posso andare ragazzi Mi aprite? Via No 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 Lasciatemi stare Io non c'entro nulla Sono appena arrivato Ma che cazzo volete? Via 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 Non c'è una luce o qualcosa? Non si vede in cazzo Non si vede Ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Vai 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 Ah ok Oh Pezzo di merda No 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 Cosa fa? Ma vaffanculo va Ah lo potevi chiudere subito Poteva farti subito sto cosa? Ci siamo già macchiati tutta la tuta eh Ok Ok non posso fare niente ancora io qua Ho bisogno di un aiuto? Il membro dell'equipaggio si inghiozza Non posso fare niente Non posso fare niente Non posso fare Veramente non posso fare nulla Posso fare niente davvero? Ah qua devo prendere l'arma Ok Va bene Ce la montiamo noi? Ok Ok Oh ok Perfetto perfetto Adesso che abbiamo trovato l'arma Ok I tasti sono Rimasti simili Non ci interessa perché sappiamo già come funziona Qua Facciamo il pestone E possiamo andare avanti RB pugno Ok perfetto Quando non si mira si possono dare pugni E quant'altro E quant'altro Apri 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 No 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 Ma ti Ti spacco tutto Ti spacco E cosa faccio Non le spreco neanche le munizioni Ricarichiamo Andiamo Amico Ti avevo quasi salvato Quasi eh Vabbè Vabbè Ok andiamo Ma dove dobbiamo andare Dovremmo andare da quella parte Ma qua sopra cosa c'è? Figlio di puttana Madonna Ma non lo farà mai più Pezzo di merda E siamo ai primi minuti di gioco E già mi sto cagando sotto Molto bene Qua che succede? La mail? Eh Non è morto Abbiamo sparato a quel bastardo Proprio in mezzo agli occhi E non è morto Smith gli ha staccato braccio e gambe A forza di spari Per Dio Mandate aiuto Ok vabbè ragazzi In poche parole Bisogna Eh Tagliare La qualunque A questi esseri In modo da poter Da poter Non Da poterli non far più camminare E muovere E così muoiono Ma va a cagare Va Pure gli obiettivi Mi fanno cagare addosso Eh lo so Morto? Eh che ne so io L'equipaggio Come diavolo è possibile? Guardateli Dobbiamo raggiungere il ponte Tra un migliaio di persone Qualcuno ci sarà Non possiamo Il trasporto è fuori uso È tutto bloccato Per la quarantena Siete voi i tecnici Qual è il piano? Ma come? Siamo noi i tecnici Un trasporto in avaria Sta bloccando il tunnel E ostruisce il sistema Una scheda dati è andata Per annullare il blocco Ne serve una di ricambio Dal centro manutenzione Ma si trova tutto dal lato di Isaac Penso io Va bene Io non lo so adesso se E' effettivamente Ok lì c'è una scheda mancante Devo fare lì Qua posso salvare Adesso E salviamo un attimo Zot di salvataggio Ok Abbiamo salvato Adesso possiamo andare avanti Iniziare le missioni Ok Sostituisci il trasporto Beh sostituisci il trasporto Naleggiato Adesso dovrei trovare la Prima la scheda Che si trova da quella parte Perfetto Anche qua è un bel posto Per venire a morire Vero? Vabbè io adesso me ne vado di qua E va a cagare Andato a cagare a tutti quanti Ok tranquillo eh Isaac Io mi ricordo che Aveva una luce forse Qualcosa o no? No? Sono sbagliato? Allora Posso andare avanti così Per farmi luce Vedere Qua io per sicurezza Sparo tutto quello che vedo eh Vaffanculo Toh ti smembro pure A cagare No devo attivarlo Ok Eh cosa devo fare io qua? Non so che vedete Ah ok Posso aprire di qua E andare qui E vedere cosa c'è Io devo andare da questa parte Tra l'altro Buon perfetto Quindi posso andare avanti di qua E devo trovare la scheda Salvataggio Salviamo sempre Perché Non si sa mai Ora scrivi Ok Non male che L'hanno velocizzato parecchio Il salvataggio Ok Ok Bene L'unico modo è farmi a pezzi Delle braccia Le gambe E questo è l'uscita O smettono solo di muoversi Ah Eh no Porca cazzozza Toh No Ma quanti c'è Quanti c'è Quanti c'è Quanti c'è Guarda te Guarda te Che cazzo di Di situazione Mi sono messo Ancora vivo Merda Toh Toh E se gli ficchi le pedate Ti danno ancora degli oggetti Se no se muoio Ne basta No Ste merda schifose Ok dai Andiamo Forza È arrivata l'ora Io adesso dovevo andare Ok da quella parte Qui c'è qualche oggetto Qualcosa Che Porca trota Qua c'è qualcosa Niente Ok vabbè Stavo scherzando Andiamo Vedi che qualcosa c'era Va bene Dove Dove Cosa Quale è successo Ah laggiù 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 Dai 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 Ok Nel frattempo Stiamo quasi morendo Abbiamo usato Il kit medico E vaffanculo Allora L'alimentazione Di lì Non c'è Oh cazzo Oh cazzo Ma corre Questo Sono ancora abbastanza pronto A quello che sta accadendo qua Quindi non Non mi sto trovando Molto in difficoltà Insomma Mi sono ancora Cagato addosso Come si deve E qui era Dove ero prima Mi dai qualcosa Perfetto 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 Di qua C'era più che un passaggio C'era un ascensore Che andava su Ah da questa parte Rispetta Prendiamo qua Ok Ok Chiamare Sì Adesso lo chiamiamo Andiamo a prendere munizioni Che non si sa mai Ok Ok Andiamo Dai Dovremmo riuscire a fare tutto Adesso Con calma Tranquilli Ok Ok Andiamo giù di qua Parapapapapapapaparam Bisogna andare di lì O di qua Allora No Munizion Ok Molto tetra Angusto Questo posto Vaffanculo Pezzo di merda Va a cagare Brucia all'inferno Schifoso Va a cagare Manco un oggetto mi ha dato Ah eccolo qua Brutto bastardo Un Kagama Call Oh avevo camminato Fino adesso avevo camminato Ok non c'è niente Qua si va a finire dove? A vedere c'era qualcosa da fare qui prima eh Oh oh No ma sei scemo No Porca puttana No 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 Corri Isaac dove cazzo vai corri Corri Isaac Ah no 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 vaffanculo Medikit vai Tu sei ancora vivo? Medikit vai C'è ancora gente qua? Porca di una miseria Madonna 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 un cagama cos'un cagame ma cosa c'è da fare adesso ha riattivato l'energia ok va bene edito riparare armadietti vabbè posso aprirli e qualcosa c'è qualcosa c'è cos c'è cosa da per tutto ok va bene va bene no allora cosa devo fare ancora devo scendere sotto va bene quindi devo lasciare l'energia lì ok torniamo giù ma torniamo giù ma non c'è di nuovo l'energia palle dobbiamo ritornare qua mettere di nuovo l'energia al all'ascensore ok andiamo sarà scensore dovrebbe di nuovo funzionare immagino era di qua ok a meno che a meno che ragazzi non debba fare un'altra cosa e questa è una cosa devo che palle lo sapevo io lo sapevo lo sapevo dovevo disattivare una cosa e riattivare l'altra che palle va bene riprendiamo un attimo quindi dicevamo io dovrei andare di qua pare tutto questo mamma mia che casino ragazzi ho proprio capito dopo cosa devo fare allora fondamentalmente la luce non mi serve cioè mi serve ma sti cazzi quindi devo lasciare la cosa lì la corrente sotto e la corrente nell'ascensore non ho la luce ma chi se ne frega nel frattempo carichiamo perché da dove devo andare dove porca vacca che non si capisce un cacchio senza luce adesso vabbè comunque di qua devo andare dai ok andiamo giù vai su o giù madonna non capisco più un cazzo non capisco ok vada bene è andata è andata ora però dove devo andare ok credito ah pezzo di merda no no scherzavo 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 e no scherzavo non ho detto figli della merda era così brutto che dovevo rifarmi tutto quel pezzo davvero devo rifare tutto devo rifare a cagare adesso e no ok e vaffanculo vaffanculo e vaffanculo ok allora abbiamo detto che l'ascensore è di qua ok sono altro adesso so cosa devo fare in modo rapido e indolore no ho sbagliato ho sbagliato ma va bene così l'ascensore è di qua ah di qua di qua qua giù a tempo continuano a seguirmi andate a cagare ma andate proprio a cagare andate va bene ok devo sempre riprenderci un attimo la mano con sto gioco e andare su tranquillo adesso so che devo attivare le due schede diverse quella in centro non mi serve qui adesso comparirà qualcuno sicuramente comparirà quello è vivo invece non era vivo a tempo mi ricarico la vita perchè sto messo a merda qua non c'è nulla perfetto per non sapere proprio per sicurezza eh mi avevi già fregato prima tu pezzo di merda no no c'è ancora c'è qualcuno che sta camminando però ho sbaglio ci provate a farmi scherzi brutti bastardi allora qui prendiamo questo apriamo apriamo prendiamo tutto quanto non ho manco visto cosa ho preso tuttora riparazioni ci frega una ceppa adesso qua devo sostituire questo così abbiamo spento la luce e non importa però possiamo andare sotto e abbiamo tutto attivato ora cerchiamo di non cagarci troppo sotto via 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 non ci provare faccia di merda vieni 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 così impari qua c'è roba da prendere qui c'è roba da prendere Quando siamo al buio almeno riusciamo a vedere che cazzo dobbiamo via Ok, scendiamo, scendiamo Ragazzi, che figata Ok E adesso con calma riusciremo a fare tutto Forse Forse, eh Allora, qui dobbiamo sempre andare da questa parte, perfetto Tranquilli, tranquilli Ho due luci, le abbiamo messe due luci qua dentro Per favore, cosa è successo? Oggetto si è andato a... No, 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 non farmi leggere queste cose adesso, porca vacca Dov'è? Oh, oh, oh Toh Ma che cacchio, ma... Oh, ma basta Toh, toh, toh Ripara i nanocircuiti Che è sta roba? Allora, potenziarmi Sblocca nuovi potenziamenti La malplasma Fa più danno Quanti nodi ho? Uno Invece della tuta Aumento la vita Vabbè, non volevo fare questa cosa Ma ok, va bene Prossimo giro Aumento i danni dell'arma, va Che forse è meglio Ok Allora, adesso che abbiamo fatto questo Ok, siamo arrivati qua E... E qui Dobbiamo prendere La scheda Bene Oh Oh Eh no, 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 no Ce n'è un altro Ce n'è un altro No Che culo, che culo, che culo I piedi, 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 piedi Fa cagare Credo di... No, ma c'è ancora vivo Pezzo di merda Oh, no, ragà Ma perché? Ancora? Che? Oh, si è attaccato Una stacca Di una merda Dove? Dove devo andare? Dove? Di qua In bocca al lupo Devo entrare Porca trota Ah, perché devo tornare indietro Devo tornare Questa rasta L'ho fatto prima All'indietro Però Si vede una ceppa Non si vede Perfetto Ma va Fa culo Me ne vado No, 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 no Non seguirmi Mi ha seguito Mi ha seguito Dai, dai Muori, muori Ok Ok, è andata Adesso fammi riaprire la porta di là Siamo a posto Abbiamo finito, ragazzi È andata Tutto bene Vabbè Vabbè Ma allora Toh Toh Ma dicendo un altro Ma che Oh, ma Quanti siete? Dammi qualche oggetto Va E dai Ok Era proprio di qua Che dovevamo arrivare Vero? Ok Ragazzi È finita È finita Allora Eh Sì Facciamo questo Salviamo E poi Ripartiamo Dove andare? Ah Devo mettere qua la scheda Veramente? Ah Ok Perfetto Ah Vabbè Ma allora Vaffanculo E so io Dalla manutenzione Mi contatto da solo Ok ragazzi Salviamo qua E ci vediamo Con il prossimo episodio Sempre su Dead Space Come sempre Grazie per essere Rimasti con me E ci vediamo Al prossimo gameplay Ciao a tutti Grazie Isaac Forse una volta Mi sa che ci cagliamo Ancora di più Zot Ciao a tutti